Diciamo che è l'insieme, è l'insieme del repertorio della mia esistenza. La musica ha sempre coinciso con la mia vita, da quando ho iniziato. È inevitabile che oggi sia bellissimo, dopo 20 anni, ho quasi 40 anni, ci tengo a sottolinearlo, non ho 40 anni, ho quasi 40, una 39. È bellissimo oggi poter mostrare la varietà di una discografia e di un repertorio che ha seguito di pari passo la mia vita. In assoluto la mia carriera è stata una strada lunga in cui tante volte sono state proprio le canzoni stesse a salvarmi, a portarmi avanti. Ed è per questo che oggi è bello poter parlare di repertorio, perché tutto il mio impegno è sempre stato dedicato alla prospettiva di un giorno nel quale avrei potuto magari fare dei grandi concerti grazie a queste canzoni o pubblicare un grande best grazie a queste canzoni. Quindi è come se in qualche maniera oggi si avverasse il sogno che me l'ho portato dentro per tanto tempo. Dal punto di vista della creazione anche di questo progetto, devo dirti che è stato molto lavorato, tutte le canzoni sono rimasterizzate, ci sono sei canzoni inedite che sono praticamente un nuovo album, una fotografia molto in primo piano della mia vita attuale, di quello che sono stato nell'ultimo periodo, molto intima anche. Quindi un'altra volta porto la mia vita nelle canzoni, tutte canzoni topografiche. Ci sono un disco di strumentali, di canzoni strumentali che hanno sempre accompagnato la mia discografia. Le rarità che sono le home recording e i demo e il piano a voce. È un quadro completo, un grande ritratto della mia vita professionale. Io ho sempre avuto un cuscino di sicurezza, non so come dirti, una sorta di... nel cassetto moltissime canzoni. È una caratteristica che mi porto dietro da tanto tempo. E anche questa volta ho pubblicato un album, ma ne sono rimasto un bel po' da parte. Per me questo nuovo lavoro è il primo passo verso un nuovo album. È come se fosse... una prima parte, ecco, una prima parte di un nuovo disco, la seconda parte avverrà fra un po' di tempo. È un momento questo in cui la verità è molto fragile. Per qualunque persona attenta alla realtà, a quello che ti capita, alla società, a chi ti sta intorno, non è difficile comprenderlo. Persino i media, la comunicazione, l'informazione, racconta una società frammentata in cui è difficile dire chi ha ragione. Il novecento è definitivamente finito in questo modo. Non abbiamo più tutti una stessa idea, non abbiamo più tutti uno stesso obiettivo. L'amore è l'unico momento, credo, in cui ancora si fanno i conti, veramente, con chi siamo. L'amore che esige rispetto, che manca in giro. L'amore che esige volontà, capabilità, determinazione, delicatezza e poesia. Tutte parole che oggi sembrano sfuggire alla società. E quindi credo che oggi l'amore sia centrale e debba essere centrale anche per chi la società la racconta tramite le canzoni. Per quanto riguarda gli amici, gli amici, cioè amici, amici, poi che è il titolo della canzone che c'è negli inediti, è che a 40 anni inizia veramente a cambiare tutto. Le grandi compagnie si sfaldano. Io che sono l'ultimo grande guerriero delle compagnie a Bologna, mi ritrovo un pochino solo e allora volevo ironizzare dissacrare questo momento di passaggio della vita di tutti che da 40 anni accade da tutti. Non è mai facile riuscire a restare in equilibrio fra quello che riesci a dare all'amore e quello che riesci a dare al lavoro che è la tua vita, che coincide con la tua vita, che è la tua più grande passione, eccetera, eccetera. E non è mai stato facile per me, ma ci sto provando. E voglio dire, provarci con tutte le proprie forze, almeno la coscienza sarà pulita. no, è diverso, sono cambiato anche io in questo momento, faccio meno fatica a conciliare le due cose. È chiaro che a volte dipende anche dalla persona con cui stai, cioè non è tutto merito mio se ci sto riuscendo. No, 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 di più ce n'è tantissimo, perché la verità è che tutte queste cose che mi accadono poi diventano anche la responsabilità che mi dà stimoli a migliorarmi, a essere ancora creativo in quello che faccio. Io dico sempre grazie al pubblico, ma non tanto perché così andrò a cena con i soldi guagnati da un tour e dirò ostrica per tutti. In realtà dico grazie perché il successo nella mia vita ha sempre voluto dire ancora più coraggio di poter fare quello che mi piace, quello che mi va, ancora più rispetto verso chi da me si aspetta che la prossima canzone non sia una comoda soluzione per avere di nuovo successo. Insomma, per me dire grazie al pubblico di quello che mi sta capitando del tour degli stadi, di questi bellissimi momenti di successo è soprattutto la possibilità di migliorarmi e dare ancora più credibilità e creatività a quello che faccio.